L'Associazione Civico-Politica Il Passo Possibile si struttura e presenta la sua organizzazione interna, ma non solo, anche l'attività istituzionale dei primi due anni di legislatura, per esporre poi la propria idea di città e di territorio. A fare gli onori di casa è stato il presidente dell'Associazione Fabrizio Ciccarelli, che ha aperto i lavori mettendo la sede di Via Verdi a disposizione della città in maniera gratuita. A settembre ci sarà l'inaugurazione ufficiale e tante altre iniziative. Accanto a Ciccarelli il gruppo consigliare, Americo Di Benedetto, consigliere comunale e regionale, il capogruppo Paolo Romano, Emanuela Iorio, Antonio Nardantonio ed Elia Serpetti. Sentiamo l'esigenza di metterci a disposizione della città, così ha detto Americo Di Benedetto, a partire dall'apertura della nostra sede, per avviare una fase di rilancio del dibattito culturale, per innalzare il livello del dibattito politico e per proporci anche in modo sempre più propositivo. La contrarietà non paga, ha ribadito. Sì, noi abbiamo un'idea di rilancio dell'azione politica nella nostra città e abbiamo un'ambizione anche di una crescita sul territorio più vasto. Una crescita che noi la definiamo non come un'ambizione di prospettiva personale, ma come esigenza di cambiare il dibattito politico e di dare un contributo culturalmente adeguato alle esigenze, diciamo così, dei cittadini. Rivendicando il risultato delle elezioni regionali, che ha definito epocale, ha detto Di Benedetto e considerata la nostra condizione aggregativa, che ha ottenuto una straordinaria visibilità regionale, Di Benedetto ha chiarito pure come nel passo possibile non prevalga la prospettiva del singolo, ma il lavoro fatto insieme per un obiettivo comune. Di Benedetto ha lanciato diverse sfide, esponendo anche quelle che sono le criticità della città, il progetto case, ad esempio, la pianificazione, ma anche il turismo. Il centro turistico in mano pubblica non può gestire una realtà così fatta, ha detto dobbiamo provare a farla diventare una società patrimonio, col patrimonio conferito dal comune non si può sopravvivere facendo turismo così.